Mostra di Loreno Martellini all'interno delle distillerie Nannoni, nella sala di degustazione. Priscilla Occhipinti ha accolto gli ospiti, ma soprattutto ha iniziato anche i festeggiamenti dei 50 anni della distilleria. Iniziamo questo 2023 alla grande con la mostra di Loreno. Un carissimo amico, ma non solo. Grande artista che sorprende per i riferimenti, per l'originalità delle sue opere e per la sua chiave ironica di lettura dei paesaggi e dei personaggi. Per i 25 anni della distillazione e i 50 anni dell'azienda, riscoprire le origini, il legame con la terra, il legame col territorio, sarà di buon auspicio per il futuro. Perché l'azienda sta crescendo con entusiasmo, con la gioia di mettersi a disposizione del territorio e di fare cultura, cultura del buon bere. Opere che spaziano dalla rappresentazione su tela a delle ceramiche, piccoli e veri e propri capolavori. Mi sono allargato, diciamo così, un pochino anche alle ceramiche, che mi faccio con tanta passione, cercando sempre nuovi soggetti, però rimanendo comunque sempre legato alla nostra terra. Le sue opere hanno richiami storici alla terra di Maremma con pittura naif. La fonte dell'ispirazione è stata Priscilla Occhipinti. È un esempio di donna che si sa destreggiare benissimo tra doveri familiari, azienda e promozione del nostro territorio.